bene ragazzi ben tornati su questo canale oggi vi porto in un vlog farò una sorpresa a mia mamma e vi dico soltanto alle 6 il mattino abbiamo il volo da bristol verso catania quindi si scendo in vacanza a trovare la mia famiglia e niente ci vediamo dopo finisco di prepararmi vado a farmi una doccia vi aggiornerò dopo ci vedremo più tardi abbiamo già le valigie pronte gli ultimi accessori e poi si parte andremo prima a casa di amici perché partiremo con amici con lo stesso volo e niente mangeremo la e verso le due ci viene a prendere il taxi che ci porterà direttamente all'aeroporto quindi ci vediamo dopo mancano un'oretta e mezza che arriva il taxi a prenderci e io qua mi faccio il caffè perché almeno resto un po attivo e niente basta rendere la pazza niente mangere basta 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 e siamo sul taxi in direzione bristol aeroport e niente ci vediamo all'aeroporto e siamo arrivati all'aeroporto dobbiamo aspettare fino alle 4 perché non ci fanno entrare alle 4 andremo imbarcare le valigie faremo i controlli di salutare eh bella non ci vediamo non ci vediamo la fanno a scocciatoi ci hanno fatto levare le scarpe Dario controlli superati di Lucy andiamo a fare colazione e aspettare le 6 per il volo ci becchiamo dopo ma qua va a cattare le cinese la crema solare che dici? si che dici? ma ci becchiamo di fare colazione fuma sigaretta e poi vengono in barco passapro c'è il Burger King andiamo a mangiare in bagno il Burger King passapro c'è il Burger King vabbè, vabbè sono fatti in centro non sono fatti in faccia ma ci sono le scale mobile ma ci sono le scale mobile ma non funziona non funziona si è scappata ma io devo non finire si sebbene si 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 Ah dal quattro Natania Qua sono saliti in caldo Un prossimo tra posto tuo Un prossimo tra Un prossimo tra Un prossimo tra Un prossimo tra Un prossimo Un prossimo tra E niente, siamo atterrati E ho l'ora di andare a dormire Perché sono stanco morto Io ho troppo sonno, andiamo a prendere le valigie, aspettiamo gli altri e torniamo verso casa. Siamo arrivati a casa, ora avremo la reazione della sorpresa a mia mamma e niente. Grazie. Guarda come è finita. Buonasera. ungen, giugno, 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 giugno. Chi è, giugno, 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 giugno. Cicciona. Io sono giugno. Io sono. Mi dupi. Io sono. È davvero maio, sì. Giulia! Giulia! C'è? E ancora qui? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? C'è? D'accord! D'accord! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non me ne aspetto vibe. Si rende il dolore come sentire freddo. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Mico, se ti sposti possiamo mettere le tovaglie. Ancora più basso. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. Non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. non ho provato a dire che ho chiamato mia madre. non ho provato a dire che ho chiamato mia madre.